Da oltre dieci anni la trattoria Andacalata è un luogo di piacere e relax. Sapori, profumi e tradizioni che danno grande risalto alla più buona cucina siciliana, rivisitata in chiave moderna e creata scrupolosamente per farti sentire come a casa. Emilio e Salvo vi aspettano in uno scenario meraviglioso, una cornice tra mare e vulcano avvolta da una magica bellezza, immersa nel verde e circondata da un panorama eccezionale. Potrai gustare le meraviglie della vera cucina siciliana e le migliori pizze di un vero forno a pietra, una piccola oasi per i tuoi eventi speciali o un ricevimento da sogno. Vi aspettiamo in via Giolitti 47 a Monacella, frazione di Santa Venerina, raggiungibile facilmente anche da Zafferana Etnea. Per info e prenotazioni 095 7081 308 o 328 47 77 892. Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato. Trattoria Andacalata, un'oasi tra sapori e natura.